Agricoltura, natura e lavoro legale. Questi temi centrali affrontati durante il dibattito ha avuto luogo presso la cooperativa Iris di Calvatone in occasione dell'evento annuale Una giornata in Cascina. Si è parlato innanzitutto dell'ampia competenza degli agricoltori con Maurizio Gritta, tre fondatori della cooperativa nel 1978. Non solo la semina è raccolta quindi, ma anche il rinnovo dei terreni e l'agricoltura rigenerativa ed in particolare l'insegnamento che deve essere profuso ai giovani in termini di agricoltura biologica e sostenibile. Da tanto tempo stiamo puntando molto sui giovani, quindi perché pensiamo che ci deve essere una trasmissione di questi valori nelle varie età. Non sarà mai una generazione che raggiunge l'obiettivo, ma saranno le generazioni che man mano si passano la mano e devono interpretare il loro momento di vita. Ovviamente con strumenti nuovi, valori nuovi, con una lettura nuova, con una... i valori sono gli stessi, ma devono essere adattati a quelle che sono le esigenze di chi oggi vive, dei giovani che oggi vivono la società. Non solo l'agricoltura però al centro della discussione, anche di natura e del suo cambiamento, ne ha parlato il naturalista Riccardo Groppagli, soprattutto sul discorso della perdita dei filari e delle sepi, divisori e diversi appezzamenti terrieri, causa della scomparsa di numerose specie di volatili. Qui vediamo dei campi produttivi con una ricca dotazione di gespuglie e di alberi. Basterebbe avere rispetto per i margini dei campi, lasciarli un pochino selvatici, pur tagliando poi il legno quando è maturo, ma lasciare lungo i margini dei campi quel tesoro di biodiversità che in campagna era presente fino a qualche decennio fa e che ora sta scomparendo. Oltre al momento centrale di discussione, la giornata in cascina si è caratterizzata dalla presenza di bambini intenti a divertirsi, grazie ai laboratori organizzati dagli animatori di Hauser e ai visitatori che, presenti a centinaia, hanno potuto gustare un pasto genuino composto da prodotti sostenibili.